Buonasera a tutte e a tutti, siamo qui stasera per presentare il libro Ciao sciperia, il secolo dei media nei rapporti culturali italo-albanesi, scritto da Vito Saracino che è qui in sala e edito da Besamuci. Vito Saracino ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in cultura, educazione e comunicazione per la sua università di Roma 3 e Foggia, dove attualmente è anche docente a contratto in Medial Tadis. È inoltre un ricercatore della fondazione Gramsci di Puglia e ha pubblicato il libro Casarci, 60 anni di associazionismo in Puglia. Sempre per Besa, insieme ad Antonella Fiorio, il volume è così lontani, così vicini, la prossimità italo-albanese dalle origini del secolo breve alla resistenza. Il primo aspetto che vorrei mettere in luce nel presentare questo volume è che è il frutto di un'ampia attività di ricerca, che ha preso in considerazione tipologie documentali differenti tra loro, dai documenti conservati presso gli archivi italiani, ma soprattutto albanesi, alle fonti eduvisive, che spaziano dall'ambito cinematografico a quello televisivo, prendendo in considerazione cinegiornali, documentari, film fiction e programmi televisivi. Inoltre ha fatto largo uso di fonti orali, soprattutto per coprire il periodo che va dalla seconda metà del Novecento fino ai primi duemila, il tutto integrato con un'ampia scelta di fonti bibliografiche internazionali. Perciò la stesura di questo volume ha previsto un approccio interdisciplinare e sono stati utilizzati i metodi di ricerca misti e tutto ciò è funzionale in realtà al contenuto del volume. Infatti l'autore ha scelto di affrontare il mondo dei medi a livello complessivo senza soffermarsi su un singolo ambito che sia quello del cinema, della televisione o della stampa, anche a fronte di un periodo cronologico abbastanza importante nella sua durata perché copre più di un secolo di storia. Ora senza dilungarmi in modo tale anche da lasciare poi spazio agli interventi anche a un intervento dell'autore, vorrei comunque introdurre alcuni punti nel presentare questo volume. La prospettiva nel testo è spesso centrata sull'Albania, su come questa percepisce l'Italia o su cosa accade nel paese. Però, come ci suggerisce anche il titolo, questo non è un libro sull'Albania, né sui media nello specifico, ma parla di un rapporto tra i due paesi. Quindi l'autore traccia le linee di questo dialogo che si articola tra l'Italia dell'Albania, che è sì ininterrotto, ma non sempre corrisposto, almeno non sempre allo stesso modo. Quindi, partendo dal periodo che va tra l'Ottocento e il Novecento, nei primi rapporti, ci si conferma poi sul fascismo e sull'ingerenza dei suoi mezzi di propaganda, che manifestano perciò anche la volontà di influenzare culturalmente il territorio già prima dell'occupazione vera e propria del 1939, attraverso le trasmissioni di Radio Bari, poi con la creazione di Radio Tirana nel 1938 e con l'istituzione di una serie distaccata dell'Istituto Luce in Albania. La situazione del dopoguerra, invece, è molto differente. Infatti, con il regime di Enverogia, l'Albania comincia a scomparire dai medi italiani. Soprattutto la RAI non si interessa del paese. Invece, la radio, la televisione, i film italiani continuano ad avere un grosso peso nella cultura albanese. E quindi, se i toni di Radio Tirana o la produzione cinematografica albanese del regime non possono e non riescono a avere fortuna nell'Italia del dopoguerra, i medi italiani hanno un loro peso e andranno a costituire talvolta anche dei modelli quasi da ricalcare. E perciò quello che traspare è che l'Italia con i suoi medi attraverso queste antenne diventa pure uno spazio di libertà dove poter sperimentare un pensiero diverso. Tra le varie esperienze a me aveva colpito quella di Radio Vaticana, che non è propriamente italiana, ma la cui distanza geografica permette agli albanesi di cattarne le onde. Infatti, Radio Vaticana, al contrario della RAI, si rivolge volontariamente verso i Balcani, cercando di intercettare quelle comunità cristiane residenti sotto il regime. Però viene ascoltata da persone molto differenti, soprattutto a livello di credo, infatti anche persone ate, che sono attratti perciò non dal messaggio religioso, ma dalla profondità dei temi trattati nei programmi, che manifestano uno spazio o altro dove poter sperimentare un pensiero diverso da quello del regime. E' su questo punto che credo si imposti nel secondo grande argomento del libro, perché Balbi giustamente ha affermato nella prefazione che questo volume non si rivolge soltanto verso coloro che si interessano di relazioni tra l'Italia e l'Albania, ma può essere un testo utile anche per chi si occupa di media statis. Infatti l'autore traccia, soprattutto parlando della risposta del regime di Oja alla presenza scomoda dei medi italiani nel territorio albanese, traccia quelle che sono le caratteristiche tipiche dei sistemi di propaganda. La risposta del regime non è sempre univoca e omogenea nel corso degli anni. Anzi, oscilla, cambia, spostandosi da momenti in cui la linea è più dura, fatta di divieti e di una produzione di Stato che vuole sovrapporsi e sostituirsi all'influenza del medio italiano. A momenti poi in cui invece si permette addirittura la ritrasmissione del programma italiano, però censurato di quegli elementi che non sono in linea con la politica del regime. Ed è il caso del telegiornale. Il telegiornale italiano viene lasciato alle ore 20, mentre quello albanese viene spostato subito dopo, anche come forma di commento, mentre quello italiano viene ritrasmesso ma censurato di quelle immagini che sono considerate più pericolose, come ad esempio l'immagine del Papa. Questo elemento non è così dissimile in realtà da ciò che avviene in ambito ciminatografico, infatti con l'acquisto da parte dell'Albania di alcuni film italiani che vengono poi appunto proiettati, si fa una scelta di quelle produzioni, di quei film soprattutto neoralisti che sembrano più in linea con il messaggio che vuole dare il regime albanese e che servono anche di commento, di critica all'Occidente borghese e capitalista. Non mancano però anche degli spazi di apertura, come l'esperienza dell'inizio negli anni 70 che porta all'edizione del 72 del festival della canzone albanese, che ricalcato sulla falsariga di quello di Sanremo, presenta dei modelli più filo occidentali in confronto alle edizioni precedenti. Questa esperienza porterà all'epurazione però di quadri dirigenti della TV di Stato, come ad esempio il caso di Todi Lubonia e del figlio Fatos. Ed è quindi soprattutto negli anni 70 che l'Albania, che si chiude sempre in se stessa, perde il contatto con le masse, anche più che in passato. E ciò che traspare dal testo è una questione comune a tutti i sistemi di propaganda, ossia che nel ricercare quel consenso diventa imprescindibile legare l'elemento pedagogico, lo scopo primario della propaganda che vuole plasmare l'individuo, porre nuovi valori e nuovi costumi nella società, con la necessità di risultare appetibile verso quello a cui si rivolge, interessare, quindi divertire dove lo scopo sia l'intrattenimento e risultare credibile se si vogliono comunicare delle informazioni e da ciò in cui il regime di Oja fallisce. Infatti il notiziario italiano viene considerato molto più affidabile in confronto a quello albanese. Solo per concludere vorrei fare anche un piccolo accenno agli anni 90, a questo momento dell'inizio degli anni 90 in cui ci sono questi flussi migratori albanesi verso le sponde italiane e è anche un periodo in cui l'Albania torna negli schermi italiani al suo modo ed è un rincontro tra l'Italia e l'Albania che però ha delle caratteristiche drammatiche perché manifesta l'incapacità, l'impreparazione italiana a fronte di questi flussi migratori, un'impreparazione non solo tecnica ma anche culturale ed è anche l'inizio del disincanto, l'inizio del crollo del mito Italia che porterà non però alla fine dei rapporti tra l'Italia e l'Albania che invece continuano ad avere un peso anche nella storia contemporanea più recente.